Potrebbe sembrare fantascienza, ma non lo è. Sono all'interno di una delle banche più incredibili che esistano. È la banca del germoplasma presso l'orto botanico di Cagliari. La sua missione? Custodire migliaia e migliaia di semi. Se qualcosa andasse storto, nell'assurdo mondo che ci circonda, qui è dove l'umanità potrebbe ricominciare. Nella nostra struttura conserviamo circa 3.000 lotti di semi delle piante sarde, ma anche provenienti da altri territori. Personalmente per me è questo il vero diamante, la biodiversità che noi cerchiamo di conservare a lungo termine all'interno della nostra struttura. Possiamo? Sì, certo. Sarà un po' di freddo, ma la cella frigorifera è impostata a meno 25 gradi. Non solo specie sarde o italiane, ma anche semi da tutto il mondo, mantenuti dormienti a temperature glaciali. E mentre sul nostro presente torna lo spettro di una ecatombe nucleare, questa banca non mi appare poi così assurda. Grazie. 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 Grazie.